Buongiorno a tutti, sono Antonio Vetro, sono il docente che vi aiuterà in questa parte del corso ad apprendere le nozioni prima base, poi un po' più avanzate, di Shiny, un tool per ottenere visualizzazioni interattive in R. La lezione che vi apprestate a seguire è suddivisa nelle seguenti parti, una breve introduzione e poi degli approfondimenti tematici, i primi due sull'interfaccia grafica e con focus particolare sugli elementi di input e su quelli di output. E poi proseguiremo parlando di reattività per terminare con il layout delle vostre applicazioni che imparerete a sviluppare. Vediamo ora una breve introduzione, che cos'è Shiny? Shiny è un framework che vi permetterà di creare delle dashboard con visualizzazioni interattive e che sono di fatto delle applicazioni web. Lo farete però scrivendo solamente codice R e interagendo poi il lato utente con un browser. Quindi gli strumenti che utilizzerete in questa parte del corso rimarranno sicuramente RStudio, Shiny che è comunque compreso nella suite R e poi un browser per verificare le vostre applicazioni. All'indirizzo che vedete nella slide troverete molte informazioni riguardanti Shiny. Il fatto che voi possiate sviluppare delle applicazioni web utilizzando solamente il codice R è reso possibile grazie al fatto che sarà il framework Shiny a generare tutto l'HTML, i fogli di stile e il codice JavaScript che sono necessario per l'utilizzo delle vostre dashboard interattive. Il framework inoltre vi permette attraverso un paradigma di programmazione che si chiama Reactive Programming, vi permetterà di tenere automaticamente traccia di tutte le dipendenze che ci sono tra il codice e i dati, a seconda anche dell'interazione con l'utente. Vedremo tutto nel dettaglio più avanti. Cosa fare per installare e per caricare Shiny? Si installa come un qualsiasi altro pacchetto in R, quindi con il comando che vedete install packages shiny. Potete verificare la versione nel solito modo con cui lo fate con altri pacchetti per caricare la libreria library shiny, quindi nulla fino a questo punto di nuovo. I componenti chiave per capire come funziona una web app Shiny sono questi quattro. Innanzitutto i dati da visualizzare, che possono essere già caricati dentro l'app oppure possono essere recuperati da fonti esterne o dall'utente stesso. Un'interfaccia grafica che definisce che cosa vedete come dove e come appaiano i componenti grafici e delle funzioni, una funzione che descrive quello che fa il server, quindi che contiene la logica dell'app. Infine, un elemento fondamentale sono le cosiddette espressioni reactive, reactive expressions, che saranno quelle che vi permetteranno di tenere consistenti il punto 2 con il punto 3, quindi la vista con la logica, ovviamente sulla base dei dati su cui state lavorando. Essendo quindi un'applicazione shiny, un'applicazione web, tenete semplamente che quello che voi realizzerete è un'interazione tra un client e un server e l'utente interagirà con la vostra dashboard visualizzando la sun con un browser. Qual è dunque, fatte queste premesse, il funzionamento di base di un'app shiny? Come vi dicevo, l'interfaccia utente è visualizzata attraverso il browser, quindi una pagina HTML, una pagina web a tutti gli effetti, che manda richieste a un server. Il server deve ovviamente avere una sessione DR che gira e ogni volta che l'utente interagisce con l'interfaccia grafica vengono mandate alcune informazioni al server. Shiny è stato progettato in un modo che questa comunicazione tra client e server sia il più possibile minimizzata e pertanto un uso corretto delle primitive, delle funzioni che mette a disposizione il framework shiny permetterà anche di non sovraccaricare il server con operazioni inutili e soprattutto una corretta gestione delle cosiddette espressioni reattive, che vedremo più nel dettaglio più tardi, vi permetterà di essere fedeli a questo principio base con cui Shiny è stato progettato. Infatti dal momento che il server contiene la logica, il cervello della vostra applicazione sarà lui poi che dovrà, ricevuti i dettagli dal client, rimandare indietro i dati aggiornati con cui il client, il browser, aggiornerà la presentazione. Questo lo farà sulla base di un delta di dati o su dati nuovi che verranno mandati in server in funzione della logica che avete definito e del codice R che avete scritto. Un'ultima cosa, ogni connessione alla web app shiny è collegata a un'unica sessione indipendente da tutte le altre, quindi se voi vi collegate alla stessa app con un altro browser o con un'altra finestra del browser otterrete due sessioni che sono uniche e indipendenti. Una volta capito, seppur ad alto livello, qual è il funzionamento base di un'app shiny e vediamo ora com'è fatta un'applicazione shiny. Il codice che scriverete caricherà sempre la libreria shiny. Dopodiché avrà la definizione dell'interfaccia utente. Ad esempio, vedete in questo caso un tipo di pagina che viene assegnato all'interfaccia utente. Voi non scriverete codice HTML, ma il codice che scriverete, le istruzioni che darete, genereranno del codice HTML, oltre che CSS, oltre che JavaScript. Questo per quanto riguarda l'interfaccia utente, che di fatto è una funzione, e lo stesso sarà per il server, che sarà una funzione che riceverà degli input e agirà su degli output, che è ciò che viene mandato indietro al browser, secondo il paradigma che abbiamo spiegato prima, ed è caratterizzato anche da un numero di sessione, che è unico per ogni collegamento. Come dicevamo prima, il server contiene la logica dell'applicazione, quindi contiene la manipolazione dei dati attraverso codice R. Una volta definite queste due componenti, l'interfaccia utente e il server, come si compongono in un'app, richiamando la funzione shinyapp, che avrà come argomento un'interfaccia utente e un server. Quindi, in teoria, e poi anche in pratica, sebbene non vedremo questo aspetto durante il corso, è possibile anche abbinare a una stessa interfaccia utente diverse tipologie di server, o viceversa, allo stesso server si può molto facilmente aggiornare l'interfaccia utente o metterne a disposizione di diverse, perché è tutto molto modulare. Che cosa fare per creare una nuova app shiny con RStudio? Seguite le istruzioni di questa slide, che vi leggo velocemente. Cliccate su File New Project, selezionate poi, si aprirà una finestra di dialogo, selezionate una nuova cartella, New Directory, e poi il tipo di applicazione, che deve essere Shiny Web Application. Si verrà creata una nuova cartella, con il nome che darete voi, e un file nominato app.r, dove andrete a scrivere il vostro codice, quindi contenuto delle funzioni dell'interfaccia utente e del server. Attenzione che per le finalità di questo corso, la struttura dell'app sarà sempre, in modo che ogni app avrà la sua propria directory, e quindi è tutto contenuto in un'unica cartella. Come è fatta un'applicazione shiny, quindi è fatta, in questa slide usiamo, siccome questa è una slide fatta su Markdown R, lanciamo l'applicazione shiny in questo modo, e viene definita l'interfaccia utente, con una pagina, in cui c'è scritto Hello World, e il server semplicemente viene lanciato con la funzione standard, e questo è l'output. Hello World. Con la sintassi che vi ho mostrato precedentemente, voi lanciate il comando shiny app in questo modo, quindi la funzione shiny app, assegnando gli argomenti che prevede, e gli oggetti interfaccia utente e server che avete creato con le rispettive funzioni. Piccola nota, in questa slide, l'assegnazione in realtà è un, anche qui è un uguale, e non il carattere di assegnazione. Una volta capito come si fa, qual è la struttura base di un'app shiny, per farla girare, seguite le istruzioni, che vedete in questa slide, che vi permetteranno di lanciarla, con un browser predefinito in R, ma che potete benissimo, una volta ottenuto l'indirizzo, lanciare nel vostro, in un qualsiasi altro web browser, e potete quindi, sia cliccando l'apposito bottone, sia utilizzando delle scorsiche, la tastiera e la tastiera, e sia utilizzando la console R, con la funzione source, attenzione alla, in questo caso, alla doppia parentesi. è possibile anche farlo da uno script, in questo caso, le istruzioni sono anche qui, riassunte in questa slide. se nel caso, con questo comando run up, che consente di lanciare una web app shiny, da dentro uno script, voi, nel caso che voi, oltre a indicare il direttorio, dove si trova la vostra app, anche il percorso, indicate anche questo argomento, display mode, uguale a showcase, potete anche vedere, sia l'applicazione che gira, sia accanto il codice, e potete, utilizzando i vari argomenti, che sono messi a disposizione, della funzione run up, potrete anche abilitare, la sottolineatura intelligente, del codice, ovvero, ogni volta che viene eseguito, un pezzo di codice, si illumina, e quindi per capire meglio, anche il funzionamento, della vostra app, è una modalità, che è pensata, anche ai fini didattici, voi potete tenere, la vostra app aperta, mentre la modificate, in quel caso però, dovete anche sapere, come ricaricarla, e avrete, in R studio, anche in questo caso, avete un apposito bottone, che è una freccetta circolare, potete anche usare, delle scorciatoie, delle combinazioni di tasti, da usare nella console R, attenzione, che mentre girate, fate girare, un app shiny, la vostra console però, è bloccata, quindi non potete lanciare, degli altri comandi, comandi, o meglio, potete farlo, ma saranno messi in coda, quindi solamente, quando schiacciando stop, o chiudendo la finestra del browser, che vi sia aperta, voi, chiudete l'app, allora, i comandi in console, che sono in coda, verranno eseguiti, in questa slide, trovate invece, brevemente, come fermare, la vostra, la vostra app shiny, e velocemente, parliamo ora, di cosa mettete, cosa, quali altri file, potete mettere, nel direttorio, in cui, avete la vostra, la vostra app, che appunto, si chiama, app.r, potete avere, un file, in cui, voi, potete mettere, variabili, oggetti, funzioni, che siano usati, sia, dall'interfaccia web, che dal server, e si chiama, si verrà chiamato, global.r, guardate bene, che questo, avviene, solo quando, voi utilizzate, la modalità, di creazione dell'app, che, in cui, interfaccia, utente, e server, sono, in due distinti file, che sono, ui.r, e server.r, nella, finestra di dialogo, di creazione, dell'app, shiny, questo, vi viene chiesto, esplicitamente, vi viene chiesto, se scegliere, come di default, l'unica file, app.r, oppure, tenere due file, separati, nel corso, di questa lezione, anche, della prossima, riservata, agli aspetti più avanzati, di shiny, noi utilizzeremo sempre, daremo sempre più scontato, l'utilizzo di un unico file, app.r, potete avere un file di descrizione, che verrà mostrato a video, nella modalità showcase, come lo sarà mostrato a video, il file, il readme, avete poi la possibilità, di mettere nella cartella www, come in tantissime, anzi, come di default, come standard, nel mondo, dello sviluppo, web, la cartella www, vi permetterà di mettere, immagini, codice aggiuntivo, CSS, JavaScript, qualsiasi altro file, che serve alla visualizzazione, del, buon funzionamento, della vostra app, per le app, che vedremo, sia a lezione, che al laboratorio, non, non lo useremo, questa cartella, potremmo usare, anzi, quasi sicuramente, lo useremo, invece, altre cartelle, che contengono, ad esempio, i dati, o script, accessori, sono necessari, per far girare, proprio, funzionare correttamente, la vostra, la vostra, la vostra app, la differenza, tra other files, e www, è che, in other files, il web, non ha accesso, mentre nella cartella, www, perdoni, il browser web, mentre nella cartella, www, il browser, va lì, a cercare, gli elementi, di cui ha, eventualmente, bisogno. Siamo, ora, pronti, per, per, andare a conoscere, più da vicino, gli elementi, compositivi, del, di Shiny, cominciamo, dagli input, Shiny, vi permette, di utilizzare, una, una grande varietà, di funzioni, di input, tutti gli input, sono reattivi, vedremo, vedremo, più tardi, il significato, pratico, della parola, reactive, e, ricordate, anche, che, gli oggetti, della vostra, interfaccia grafica, sono, identificabili, in modo univoco, attraverso, una, un'etichetta, ed è, questa identificazione, è assolutamente, necessaria, per permettere, al vostro, browser, di mandare, correttamente, i dati, al server, di modo, che il server, possa, identificare, in modo univoco, i comandi, e i dati, che vengono, mandati, dal, dal browser, il, la, la sintassia, messa, per, identificativo, degli oggetti, è la stessa, di quella, delle variabili, r, come, vi dicevo, precedentemente, l'interfaccia, è, grafica, e, viene, curata, dal browser, e quindi, gli oggetti, riflettono, gli oggetti, definiti, nella funzione, ui, definiscono, solamente, che cosa accade, è il lato browser, questo è un concetto, molto importante, il lato browser, vuol dire, il lato client, da un momento, che il calcolo, viene fatto, qualsiasi calcolo, viene fatto, nel server, questo significa, che tutti gli oggetti, che voi definite, nel, negli input, e nel, come input, e nell'interfaccia grafica, sono, in modalità, solo a lettura, non è lì, che li modificate, è lì, che li definite, è lì, che definite, anche la posizione, potete definire, alcuni dettagli, più visuali, ma non, la, non, non avrete a che fare, con il, con il valore, l'identificativo, dunque, serve, per poter scrivere, anche, i nuovi valori, e, se, se, avrò, un file, un oggetto input, lo, lo sinonima, lo, si, specifica, con l'identificativo, poi, lo richiamerete, con queste sintassi, input, dollaro, è l'identificativo, che avete usato, quindi, guardate questo codice, nella funzione di server, che, che definisce, che ha come argomento, un input, un output, e in maniera opzionale, anche, il numero di sessione, in questo esempio, il, la funzione, rnorm, che crea, distribuzione, normale, randomica, normale, prende, come, parametro, un valore, che è definito, in un input, che è definito, proprio dall'utente, nell'interfaccia grafica, e che è stato, è stato, è stato identificato, con la, l'id, samples, che cos'è questo, samples, questo samples, è definito qui, nell'interfaccia grafica, ed è un oggetto, di tipo, slider input, lo vedremo, più nel dettaglio, a breve, ma è uno slider, che quindi, una volta settato, manda il valore, al, al server, ed è il valore, identificato, unicamente, attraverso, proprio samples, questo meccanismo, è valido, per tutti i tipi, di input, che quindi, vengono ripresi, lato server, attraverso, l'identificativo, possiamo, anche, utilizzare, una, una label, che quindi, è che il testo, che viene visualizzato, nell'interfaccia grafica, ad esempio, nel caso, precedentemente, nel caso precedente, dello slider input, non è samples, che vedrete, a video, ma, sopra lo slider, se lo settate, vedrete, se settate la, la label, vedrete, la, proprio il testo, che metterete, come label, in questo caso, number of samples, che viene settato, come secondo argomento, che di default, è il secondo argomento, ovviamente, la dicitura sintassi completa, sarebbe, id, uguale, samples, e label, uguale, number of samples, potete settare, un valore di default, in questo caso, value, uguale a 6, e poi ci sono, tutta una serie, di altri parametri, che dovrete vedere, o nella documentazione, o in alcuni casi, sono riportati, anche nelle slide, che seguono, che sono specifici, della funzione, di input, che state usando, in questo caso, io sto definendo, uno slider input, che è un valore minimo, di 1, e un valore massimo, di 100, e che di default, è posizionato, su 6, attenzione, che, non, in questa, prima, parte di presentazione, di Shiny, non stiamo parlando, di validazione degli input, quindi stiamo assumendo, che tutti gli input, che vengono inseriti, sono corretti, o sono utili, al nostro, sul nostro, per i nostri scopi, il, il primo test, di input, che, il primo oggetto, di input, che vediamo, è il free text input, questa categoria, di input, permette, di inserire, del testo libero, e, abbiamo, tre funzioni, text input, per testo breve, password input, per inserire, delle password, e text array input, nel caso, in cui bisogna, inserire, degli interi paragrafi, di testo, vediamo un esempio, e, in questo esempio, abbiamo una pagina, che viene dichiarata, composta, da tre elementi, un, text input, in cui, si, si può, si può, si può andare a definire, la mail, ovviamente, non c'è alcun controllo, di validazione, come abbiamo detto, una certa password, e che, come, come, da intuizione, non fa vedere, il testo iscritto, e poi, un testo, in cui, si può, si può, scrivere, qualsiasi, qualsiasi cosa, e quindi, in questo caso, scriviamo, delle, del testo, giusto per farvi vedere, in maniera interattiva, che cosa succede, queste slide, che sono fatte, ripeto, con Markdown R, potete, farle girare, direttamente, dal vostro RStudio, potete, cambiare il codice, potete, oppure, semplicemente, visualizzarli, sul, sul vostro browser, e potete, interagire, con esse, perché, anche queste slide, utilizzano Shiny, e, sono, in questo modo, in questo momento, ve le sto mostrando, come, applicazione web, e quindi, è possibile avere, una vera, una reale interazione, proprio come, se fosse, in un, in una, in una, in una web app, di tipo Shiny, e, vedete, che qui, in ultima cosa, che vi dico, che, nella, nella text array input, ho definito, un numero, iniziale di righe, che è uguale a 5, che però, può essere, esteso, a piacimento, abbiamo, poi, un altro tipo di input, che prevedono, invece, solamente, dei numeri, si tratta, del numeric input, che è un text box, che si appetta ai numeri, e uno slider input, che è, di fatto, una barra, che potete muovere, vediamo, un esempio, di slider input, vediamo, la prima riga, di questo codice, di questo estratto, della pagina web, è uno slider input, con identificativo age, etichetta age, valori default 30, infatti, vedete che è già posizionato, su 30, minimo 65, massimo 75, sono, facilmente, ritrovabili, qui, e lo slider, non fa altro, che, che, permette di variare, in questa scala, il numeric input, che, ha identificativo, num, e, etichetta people, è, questo, questo qui, che vedete, adesso sottolineato, come vedete, è settato già su due, perché, il value uguale a due, e, 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 poi io posso aumentarlo, e diminuirlo, a piacimento, infine, abbiamo, un altro slider input, che, è, e, si differenzia, dal primo slider input, perché, è, a due, è costituito, da due estremità, quindi, io definisco, un range totale, che, vada a 0, a 25 mila, e, poi, definisco, una coppia di valori, che sono quelli di default, che, in cui vedo, apparire, appena apro la pagina web, che, poi, posso modificare, quindi, io, quando, modifico questi valori, al server, arriverà una coppia, di valori, quindi, salary, l'oggetto salary, per essere, per avere accesso all'oggetto salary, in modo corretto, bisogna tenere conto, che, poi, avrà dei sottocampi, con il primo valore, e il secondo valore, inserito, di default, 1,500, e, nel caso, di adesso, verrà mandato, 8,374, 20,737, abbiamo anche, degli input, che sono specifici, per le date, date input, e date range input, sono, speculari, a, numeriche input, e, slider input, cliccando, vedrete apparire, un, un calendario, in cui, io, posso, inserire, di nuovo, senza validazione, posso inserire, la data richiesta, mentre, nel secondo caso, nel date range input, io, posso, inserire, un range, di date, quindi, ad esempio, in questo caso, dal 27, gennaio, 2014, al, 28, anzi, facciamo, 2019, al, 26, giugno, 2000, e 21, perdono, non l'ho più settato, 19, quindi, questo, un esempio banale, farvi vedere, che come, alla fine, con, una sola riga di codice, voi potete implementare, un form, che, che, non è complesso, ma che, richiederebbe, con gli strumenti, web, tradizionali, magari, di, 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 il, il, un altro tipo, di, di, di input, riguarda, le scelte limitate, e abbiamo select input, in cui, è possibile, scegliere, un valore, attraverso, attraverso, una lista, vedete, qui, un esempio, in cui, io definisco, un vettore, judgments, che ha come valori, good, average, and bad, poi, io definisco, select input, in cui, o, che ha come identificativo, score, l'etichetta evaluate, e poi, ha come valori, judgments, quindi, i valori possibili, sono, average, good, e bad, e, di default, è selezionato, average, posso utilizzare, anche, la, l'argomento, multiple, uguale a true, in questo caso, posso, selezionarlo, è più di uno, in questo esempio, nel codice, non è attivo, il radio, buttons, che già, immagino, conoscete, dalle vostre esperienze, con il web, o con altri corsi, di programmazione web, vi permette, di scegliere, attraverso, una lista, e, l'esempio, la, 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 calcoli, lato server, quindi, questo significa, che, quando io scelgo, average, ad esempio, in questo caso, viene mandato, zero, perché, perché ho definito, l'argomento, choice, choice, values, uguale a, judge, punto, short, che, quindi, abbina, i valori del vettore, nelle posizioni, corrispondenti, valori del vettore, judge, punto, short, a quelli, di judgements. Abbiamo anche, check, checkbox input, e, per una, per scelte multiple, eh, pardon, checkbox input, per una scelta, sì e no, mentre per scelte multiple, checkbox group input. Qui un esempio, il vettore judgements, eh, in questo caso, eh, in realtà è un vettore di, di, eh, di categorie, di altro tipo, topics, potremmo definirlo, Humanities, Engineering, Economics, eh, che posso, selezionare entrambi, ad esempio, adesso, nel, in questo browser, la selezione fa, sparire il, eh, la casella quadrata, quindi, io se deseleziono tutto, vedete, tutte le, i, 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 i quadrati, quindi, io selezionando, posso selezionare, però, più di uno, Economics e Engineering, ad esempio, eh, che è, è un checkbox input, permette, la selezione o meno, il valore di default è true, quindi è già selezionato, non lo vedete, ma è già selezionato, quindi, io, cliccando, lo rendo false, e infatti, il quadratino per la spunta appare. Avete poi altri tipi di input che non andiamo a spiegare adesso, perché il meccanismo è di fatto sempre lo stesso. voi definite un identificativo, un'etichetta e poi degli argomenti, definiti, andate a definire degli argomenti specifici della funzione. Il file input lo utilizzeremo in laboratorio, vi verrà spiegato poi come, mentre per l'action button avremo degli esempi più avanti, così come Observe Event e Event Reactive, di cui capirete il significato più tardi. Però lo anticipiamo qui, perché come avrete visto dagli esempi che abbiamo mostrato, a queste azioni che io sto svolgendo sull'interfaccia utente, sul browser, non stanno seguendo alcuna azione lato server, quindi queste azioni in questo momento avvengono solamente nel client, solamente nel browser. Abbiamo bisogno di sapere di aggiungere un altro pezzetto a questa panoramica, quindi dobbiamo iniziare a parlare di output. Dunque, parliamo di output. Tendenzialmente abbiamo tre grosse categorie di output, testo, tabelle e grafici. Vedremo in questa prima parte, tutti e tre, mentre nella parte di Shiny avanzato, la settimana successiva, o quella in cui vedrete questa registrazione, andremo a fare un approfondimento sui grafici interattivi. Quindi, concetto molto importante è quello descritto in questa riga. Ogni funzione di output nel frontend è abbinata a una funzione di tipo render nel backend, ovvero lato server. Quindi, ad esempio, la funzione plot output è abbinata con la funzione render plot e viceversa. Gli output sono degli oggetti che hanno anch'essi un identificativo e che sono a cui è possibile accedere attraverso gli stessi identificativi che abbiamo usato negli oggetti di input. Vedremo poi nel dettaglio, nella pratica, che cosa implica a livello di codice, di sintassi di codice. Attenzione che, come scritto nel secondo punto di questa slide, che gli oggetti di output sono atomici. Quindi, se vengono eseguiti, vengono eseguiti, viene eseguito tutto il codice che li riguarda oppure non vengono eseguiti to-cur. Piccolo suggerimento, prima di passare ai dettagli, spesso le principali cause nel ottenere un errore andando a lavorare con gli output sono queste due. Avete dimenticato di abbinare la funzione di output alla funzione render oppure state cercando di leggere da un output. Questo non è possibile. Gli output sono degli oggetti di tipo vicolo cieco, ovvero sono gli oggetti che vi permettono di mostrare a video nel browser web il risultato di un calcolo che avviene sul server. Non potete leggere da un oggetto di output. Voi potete leggere da un oggetto di input. Quindi questo è un concetto che io sottolineo. Vediamo ora il primo tipo di output, testo. abbiamo principalmente due tipi di testo di output che sono il text output. Normalmente è abbinato con render text, quindi ogni volta che voi avete text output richiamate anche render text. E nel giro di una slide vediamo come. sappiate che text output metterà il testo all'interno dei tag div o span tag html div e span. il testo è passato come un'unica stringa da render text. È un po' come avviene con cut, con la funzione cut. L'altra funzione è verbatim text output che è abbinata con render print tendenzialmente anzi non tendenzialmente questa funzione che è tendenzialmente abbinata a render print però quando usata mette il testo con una modalità di larghezza fissa quindi che in html vuol dire utilizzare il tag pre. il render print fa quello che un po' fa la print in R quindi è come stampare a console mentre il cut stampa che è proprio di render text invece stampa una stringa. Quindi quando volete stampare direttamente quello che avviene avrebbe a console usate verbatim text output vediamo subito un esempio e in questo esempio abbiamo un'interfaccia un'interfaccia utente che ha il ha due campi di output l'output è un text output con valore text e un verbatim text output con id code output mi correggo non è il valore di text output ma è l'identificativo text vediamo come vengono usati al server lato server lato server nella funzione di server vengono l'output viene richiamato con output che è uno degli due argomenti della funzione di server e l'identificativo viene usato come abbiamo spiegato all'inizio dopo il dollaro quindi output dollaro text va a definire che cosa apparirà nel text output definito nell'interfaccia grafica quindi il cosa di nuovo scusate se sottolineo di nuovo questo concetto il cosa avviene solo lato server in questo caso in questo esempio non stiamo usando ed è fatto appositamente non stiamo usando nella maniera più corretta questo valore perché vedete che il render text ha un è un valore statico summary il server serve scusate il gioco di parole a fare delle computazioni per qualsiasi cosa che sia statica a livello di anche di grafica va definita nell'interfaccia web vedremo al termine di questa sezione introduttiva sulle basi di shiny che ci sono degli elementi migliori per stampare un testo statico come questo che è summary il verba team text output che ha identificativo code output è definito qui in questa riga ed è viene dividito con il render print e viene lanciato un comando che è il summary da uno di un vettore di una sequenza che va da uno a dieci qui posso avere qualsiasi tipo di codice che può anche dipendere dall'input che immettiamo noi adesso man mano che aggiungiamo mattoncini capiamo capiremo meglio come legare il server con l'interfaccia grafica abbiamo poi le tabelle possiamo poi stampare a video quindi nell'interfaccia web le tabelle abbiamo due tipi di tabelle un tipo statico e un tipo dinamico table output è quello statico che è abbinato a render table e mi mostra tutti i dati della tabella e semplicemente creando una tabella html data table output è dinamica un po' più complessa è abbinata a render data table ed è una tabella dinamica ovvero permette delle interazioni minime con l'utente che ad esempio può definire può ordinare le colonne può definire quali righe quante righe visionare può fare una ricerca sulle righe se la tabella non viene mostrata in per intero può scorrerla con un sistema di pagine e questo avviene grazie all'utilizzo della della libreria data tables di javascript vediamo degli esempi vediamo che questa app abbiamo un'interfaccia grafica che è fatta un'interfaccia utente che è fatta solamente con una tabella table output che io ho nominato ho identificato con l'identificativo static proprio per ricordare che table output è statico la funzione di server cosa fa? semplicemente stampa non tutta la tabella empty cars e empty cars è uno dei dataset che è presente di default in R ma stampa solamente le prime righe attraverso il comando head che sicuramente già conoscete e vedete come l'output che è identificato univocamente con l'identificativo è di tipo table output e quindi devo usare render table e questo è l'output non è è semplicemente la tabella un po' più interessante forse è l'utilizzo di data table output che è dinamica come l'identificativo che ho usato suggerisce e guardate la funzione del server è abbinata io riprendo l'oggetto che ho definito nell'interfaccia web attraverso il suo identificativo quindi output dollaro dynamic quindi io prendo il data table output e gli abbino il render data table che vuole determinati alcuni argomenti come il data frame e poi ad esempio una lista di opzioni in questo caso io definisco che voglio delle pagine di lunghezza 4 questo è il primo output come vi ho detto la tabella interattiva io posso scorrere attraverso le pagine io posso modificare il numero di righe che visualizzo e vedete che nella slide non ci stanno tutte quindi mi appare uno slider e posso anche fare una ricerca in questa tabella adesso non ci sono nomi quindi posso fare soltanto le ricerche per numero ad esempio posso ricercare 16 virgola e mi appariranno tutte le 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 righe in cui appare 16 virgola posso fare delle ricerche anche più raffinate sulla colonna ad esempio 6 dove appare 6 come nella colonna seal oppure posso fare un ordinamento per colonna per quella che preferisco e questo è molto comodo perché permette ad esempio di esplorare i dati in maniera immediata e con una sola riga di codice a questo punto abbiamo definito gli input abbiamo definito il testo perdone gli output di tipo testo gli output di tipo tabella non ci resta che definire gli output di tipo grafico e abbiamo completato il panorama degli output abbiamo la funzione plot output che è abbinata a render plot con render plot potete visualizzare qualsiasi tipo di grafico R attenzione che i grafici possono anche operare come input questa è un'eccezione a quanto che vi ho detto sugli output questo è fatto per aggiungere delle caratteristiche importanti all'interattività lo vedremo più avanti quindi sapete che c'è questa possibilità ma per ora tenete saldo il concetto che non potete leggere dagli output vediamo un esempio e qua iniziamo finalmente a combinare un po' di più ciò che le azioni che l'utente fa lato con gli oggetti di input è quello che vede l'interfaccia grafica che voi vedete qui è composta di due oggetti è composta da uno slider che è questo qui che ha come valore minimo 5 valore massimo 50 settato di default su 9 e che cosa faccio io con questo slider vado a a dire al server che deve utilizzare il valore che io setto e che cos'è il numero di campioni da utilizzare per vedete per andare a costruire un histogramma per andare a costruire una distribuzione casuale una distribuzione normale in modo casuale e poi visualizzarla nel grafico come avviene ciò avviene perché innanzitutto il render plot permette di proprio di legare l'input all'output e di accorgersi quando l'input cambia in shiny si parla di invalidazione di un campo di un oggetto quindi quando l'input cambia l'oggetto displot è invalidato e quando è invalidato vuol dire che deve essere aggiornato quindi ogni volta che io cambio lo slider il server mando dei dati al server in questo caso mando questo valore 18 26 30 44 e il server cosa fa il server esegue questa linea di codice R che è definita dentro il render plot è solamente questo che è definito qua dentro che è abbinato al dist plot che è un oggetto di tipo grafico plot output identificativo dist plot larghezza altezza sono altri argomenti come ce ne sono tanti altri quindi vedete che abbiamo creato un circolo abbiamo creato un collegamento tra l'input lo slider il cui valore viene letto per definire un'istituzione casuale un'istituzione normale che viene definita casualmente viene questa distribuzione viene visualizzata grazie a render plot che la 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 visualizza nell'oggetto la segna all'oggetto plot output nel browser possiamo avere altri tipi di output che non andiamo a approfondire adesso che sono l'image output paired che è combinata con il render image e l'html output che mostra del codice di fatto degli elementi html così come ui output che definisce degli oggetti tipo interfaccia web che sono però degli output è una parte che non vedremo per avere delle interfacce grafiche dinamiche sappiate dell'esistenza e che sono queste ultime due sono abbinate a render ui quindi ogni output è abbinato a un render ed è il render che è un elemento reattivo lo vedremo a breve ma sappiate che è il render che permette di accorgersi quando l'input cambia e quindi di mandare i dati necessari al server e solamente i dati necessari questo solamente è facilitato da come è stato progettato il framework Shiny ma dipende anche molto da voi dall'uso che farete degli elementi reattivi prima di iniziare questa parte sugli elementi reattivi vi propongo questo esercizio che è seguente create la vostra app seguendo il wizard che vi ho descritto all'inizio delle slide e copiate nel file app.r il codice dell'istogramma tenete solo in considerazione che dovete copiare solamente la ui e il server e non la funzione wrap per shiny app perché come abbiamo visto all'inizio delle slide nel file app.r lo lancerete con la funzione che prende come argomento la ui e il server quindi una volta che avete copiato il codice di questa app modificate gli elementi visuali potete aggiungere dei parametri di input potete modificare quelli esistenti in modo da provare un po' i comandi e poi potete modificare anche l'istogramma magari utilizzando ggplot2 visto che lo sapete già usare dopodiché provate a aggiungere una tabella che contenga che cosa il riassunto della 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 distribuzione che avete creato e che cosa accade probabilmente vi fermerete anzi quasi sicuramente vi vi fermerete e allora capirete che è il momento di riprendere la registrazione che a questo punto se avrete voluto fare l'esercizio l'avete messa in stop è perché vi spiegherò come arrivare a fare questo questo piccolo passetto però prima provate il consiglio che vi do è quello di provare da voi di modo da iniziare a prendere confidenza con con shiny bene è ora di aggiungere un tassello fondamentale per la costruzione di app shiny che è quello della reattività abbiamo già incontrato degli elementi reattivi che sono i render e sono reattivi perché permettono di captare quando un input cambia e quindi quando l'output è invalidato e quindi va l'oggetto 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 output va ricalcolato questo stimola ovviamente il il server che deve rifare le computazioni un uso intelligente degli elementi reattivi e che è fedele ai principi di design del framework di shiny vi permetterà di minimizzare il numero di volte che andrete a mandare dati al server e vi spiegherò adesso come questo è molto importante perché è importante immaginate se avete una dashboard interattiva vuol dire che il numero di azioni che l'utente può fare è sicuramente proporzionare il numero di input che voi metterete di input di output il numero di oggetti che metterete nella dashboard ed è sicuramente sarà molto alto perché potete avere molti utenti collegati in contemporanea quindi è importante minimizzare il lavoro che deve fare il server per non sovraccaricarlo e per non pregiudicare l'esperienza utente che in quanto si aspetta interattività si aspetta delle risposte molto veloci da parte dell'applicazione ma siccome la risposta dipende anche dai calcoli che farete fare al server allora ecco che gli elementi di reattività vengono in nostro aiuto gli elementi di reattività appartengono a una modalità di programmazione che va sotto il nome di programmazione reattiva in inglese reactive programming l'idea alla base di questa modalità di programmazione è che si vada a specificare le dipendenze tra input e output di modo che un output venga aggiornato solamente quando gli input da cui dipende cambiano questo è importante perché se io cambio degli input che non riguardano mettiamo ad esempio che io ho uno slider e ho poi un numeric input e ciò che ha effetto su un grafico è solamente lo slider io non devo devo fare in modo che non debba aggiornare il grafico ogni volta che cambia il numeric input no solamente quando cambia lo slider input gli elementi reattivi che servono a questo quindi a mappare queste dipendenze sono usati principalmente nella funzione server dove leggiamo ripeto perché questo è molto importante dove leggiamo l'input facciamo i calcoli poi mandiamo indietro al browser i risultati che il browser visualizzerà nel modo che abbiamo definito dell'interfaccia utente gli elementi reattivi sono essenziali anche per leggere in modo utile l'input cioè un input che è letto se produce dei valori reattivi che cosa sono i valori reattivi sono dei valori che ci permettono di sapere quando cambiano e quindi devono essere inseriti in un contesto reattivo abbiamo già visto in realtà un contesto reattivo cioè tutto ciò che avviene dentro una funzione di tipo render è già un contesto reattivo quindi render plot render table render data table render text eccetera eccetera e render il cuscinetto tra l'input e l'output ma lo è anche un altro contesto che è quello dei reactive che vedremo nel corso delle seguenti slide anche nelle slide che seguiranno per la parte avanzata anche reactive è un cuscinetto tra input e output e adesso andiamo a definire meglio che cos'è questo cuscinetto per fare ciò è importante che voi abbiate un'idea di massima di che cosa significa programmare secondo il paradigma reattivo e che cosa lo differenzia dal modo in cui voi di solito programmate il modo in cui di solito programmate è quello cosiddetto imperativo ovvero voi dite definite dei programmi che sono una serie di istruzioni normalmente c'è un main c'è un punto di ingresso che permette certo anche interattività ma di fatto pensate ai vostri script R vengono eseguiti in sequenza diverso è il caso del reactive programmi che è un tipo di programmazione dichiarativa in cui è come se dichiaraste la ricetta di un di un di un dolce ad esempio che quindi quali sono gli ingredienti ecco voi con il reactive programmi dichiarate definite quali sono i requisiti quali sono le norme le regole gli obiettivi del della vostra app come un certo elemento deve essere visualizzato e dove ma all'interno della funzione server ad esempio il codice non viene eseguito in maniera successiva linea dopo linea ma viene eseguito solamente quando un certo evento interazione con l'utente ad esempio invalida l'output un oggetto di tipo output e quindi viene viene eseguito il codice di quell'output in maniera atomica tra l'altro quindi tutto il codice o viene eseguito o non viene eseguito non ci sono esecuzioni parziali quindi qualsiasi effetto previsto dentro una porzione di codice dell'output della funzione di output e avviene solamente se tutta la funzione viene eseguita a buon fine un esempio un altro esempio di reattività perché in realtà l'abbiamo già incontrata parlando di output è il seguente abbiamo un numeric input che ci prende che ci chiede l'età e abbiamo un text output dove noi andiamo attraverso l'identificativo sentence poi a di fatto a stampare la seguente frase past0 immagino la conosciate già che è con catena delle stringhe ur poi il valore dell'input numeric input che a cui accediamo attraverso input dollaro age e poi year sold il tutto questa funzione è inserita dentro un render text che è la funzione render abbinata a cosa a un output di tipo text output il render text crea un contesto reattivo che significa che ogni volta che io cambio l'input viene aggiornato l'output vedete e se io cambio 20 non succede niente perché non è cambiato di fatto vedete quindi quando io schiaccio 8 pardon quando io schiaccio 9 viene verificato che il l'output sentence è invalidato quindi il 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 valore va ricalcolato quindi è cambiato input age che invalida ciò a cui il gli output che dipendono da da esso gli output che dipendono da esso sono in questo caso solo output dollaro sentence dipende da esso perché è legato dalla funzione render text e quindi viene mandato server il nuovo valore viene ricalcolata la stringa e viene mandata indietro al client il browser quindi lo visualizza fin qui dovrebbe essere tutto chiaro perché è abbastanza semplice le cose si complicano quando abbiamo più componenti e magari ci sono degli output che dipendono da più input in questo caso ci viene in aiuto il cosiddetto grafico reattivo che descrive attraverso un grafo tutte le connessioni tra input e output anche quelle intermediate dalle espressioni reattive nel caso precedente il l'output sentence ha una dipendenza dalla cosa dall'età dall'input age attenzione perché siccome abbiamo detto che questa non è programmazione imperativa l'ordine esecuzione è dato proprio dal reactive graph cioè dalla ricetta che abbiamo scritto gli ingredienti poi come mettiamo gli ingredienti insieme dipende dal cuoco in questo caso con tutti i limiti della metafora però questo serve a ricordarvi questo aspetto importante quindi non importa l'ordine in cui mettete dichiarate le vostre funzioni nel server ad esempio questo è il reactive graph molto semplice ne vedremo di più complicati della nostra applicazione precedente in cui age ha è collegato a sentence e la freccia va dall'input verso l'output quindi sentence ha una dipendenza da age voi avete un package si chiama react log non tratteremo a lezione ma sappiate che questo pacchetto vi permette questa libreria vi permette di tenere traccia del grafico di reattività e di tutto quello che accade sul grafico in cui potete sia interrogarlo durante l'esecuzione dell'app e sia a posteriori perché può registrare tutte le interazioni ed è utile per capire come funziona la reattività o se c'è qualcosa che non va nella vostra applicazione e volete capire meglio perché una sorta di debugging differenziato differito perdono non differenziato adesso abbiamo tutti gli elementi che sono necessari per andare a capire meglio le espressioni reattive che sono espressioni che prendono degli input e producono degli output ricordatevi li avevo definiti come dei sorti di cuscinetto tra gli input e gli output e questo cuscinetto è molto potente perché immagazzina il valore dell'input quindi funge anche da cache pertanto se un output dipende da un determinato input e l'input non cambia vale sempre il valore che è immagazzinato in questa cache ovvero nell'espressione reattiva che lega quell'input a quell'output e questo è importantissimo perché se io da quell'input ho una sequenza di dipendenze o una moltitudine non sequenza di dipendenze allora tutte le volte che devo calcolare gli oggetti di output lo farò dipendere dall'espressione reattiva e non direttamente dell'input perché il valore dell'input è immagazzinato nell'espressione reattiva quindi mi basta leggerlo una volta e se non cambia più io non dovrò più rimandarlo al server le espressioni reattive combinano come ho scritto qui sia delle caratteristiche che sono sia degli input e degli output e per questo motivo stanno nel grafo di reattività nel mezzo proprio come un cuscinetto tra input e output il risultato di una espressione reattiva dunque può essere usato nell'output e quindi è molto utile e vediamo un esempio che è lo stesso di prima ma stavolta modificato modificato solamente nel server guardate il server guardate l'output dollaro sentence il render text non ha più non ha più la funzione che fa il il pass zero che computa la stringa che costruisce la stringa no questa è spostata sopra noi abbiamo un elemento reactive che contiene appunto il comando di past della stringa il comando di costruzione della stringa e quindi se io cambio questo valore il cambiamento viene registrato dal reactive viene ricalcolato il valore s il valore s viene usato da render text e guardate che la sintassi prevede che si acceda a un reactive un elemento reattivo con la doppia parentesi quindi con s scritto in questo modo importante questo è uno degli errori principali che si fanno è non mettere doppie parentesi non succede poi nulla al lato browser oppure avete un errore perché questa cosa è molto potente perché io posso avere tutta una serie di altri output che semplicemente richiamano s e quindi ogni volta che s cambia vengono aggiornati tutti gli altri output e soprattutto la la funzione di costruzione della stringa viene viene fatta lanciata una sola volta e serve a più output potenzialmente almeno non in questo esempio e funzionamento è sempre lo stesso ma vedete che ho ottimizzato meglio perché appunto per i motivi che vi ho detto e questo rispecchia i principi con cui il framework shine è stato costruito in questo caso il grafo reattivo prevede l'inserimento di s tra age e sentence vedete che age è letto da s e s e il valore di s viene trasmesso a sentence parleremo d'ora in avanti di produttori e producers per indicare gli input e le espressioni reattive e di consumers per indicare le espressioni reattive e gli output e qui manca un output adesso adesso che abbiamo imparato l'uso degli elementi reattivi possiamo modificare un po' l'istogramma e guardate come l'ho modificato concentriamoci prima di tutto sull'interfaccia ho il mio solito slider vi ricordo che l'istogramma io definisco il numero di campioni da usare per generare in maniera casuale delle distribuzioni normali ho il solito slider questo non cambia ho il solito grafico su cui visualizzo l'istogramma e ho due due valori di testo il testo che io continuo a usare impropriamente ovvero il testo che contiene il valore statico summary e poi ho il testo che contiene il proprio il sommario la sintesi dei dati che era ciò che vi chiedevo inizialmente all nell'esercizio della sezione precedente di questa presentazione ecco adesso avete davvero tutti gli elementi per farlo perlomeno in maniera corretta perché 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 io ho un input che è quello dei slider input che serve a due output a plot output e anche a verbo a team text quindi quello che faccio è che io leggo input samples e mi genero già la distribuzione casuale dentro un reactive che io chiamo dist e dopo di che uso dist in due punti sia nel render plot quindi quando stampo l'istogramma e sia nel summary data quando io lancio il comando summary su cosa su dist che è la catena di vettore che contiene i dati generati casualmente e il risultato è questo che io cambio così e si si modificano entrambi cioè entrambi dipendono dall'input l'input viene letto una sola volta e viene la distribuzione viene calcolata una sola volta e con gli elementi che avevate prima sarebbe stato molto complicato andare a leggere più volte l'input perché 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 avete una avete qui una generazione casuale quindi io per leggere andando a leggere due volte l'input a meno che di non settare il seed avrei avuto due distribuzioni diverse in questo caso io salvo tutto già su dist e uso dist sia nell'istogramma e sia nel summary e quindi vedete che posso cambiare come voglio e io ho un aggiornamento in tempo reale sia del grafico che della tabella di sintesi quindi iniziamo con questi mattoncini a combinandoli usando gli elementi reattivi nel modo corretto ad avere dei funzionamenti interessanti per le vostre dashboard adesso per chi vuole io vi propongo di stoppare la registrazione in questo in questo istante provare a disegnare il reatti graph di questa nuova di questa nuova app e in pochi secondi vi farò vedere il listogramma il grafo reattivo che è questo qui io ho lo slider samples che è un input che il cui valore viene salvato e memorizzato da dist che qui ne fa anche cache come abbiamo detto e così che sia summary data che dist plot possono essere aggiornati perché dipendono entrambi da dist quando cambia samples cambia dist viene tutti summary data e dist plot vengono invalidati si dice così in termini di shiny e quindi dist sa che deve il reactive element sa che deve aggiornare summary data perché questo perché il loro valore diventa invalido ecco vedete che grazie al al grafo reattivo noi notiamo anche che io sto usando in maniera in proprio summary text perché è un elemento sostante che è un output che però non ha nessun input e dunque è tendenzialmente è da rimuovere e lo vedremo più tardi come come si rimuove possiamo grazie agli elementi reattivi anche controllare la temporizzazione di una della valutazione dell'input ad esempio attraverso il la funzione reactive timer che a tutti gli effetti un elemento reattivo che quindi introduce una una dipendenza dal da cosa dal tempo che scorre e guardate l'uso che ne faccio in questa slide vedete qui in basso sembra che ci sia un cronometro ora un cronometro che per via del della mancanza di allenamento di allineamento sull'iniziare preciso del secondo che in questo caso in questa sessione della presentazione non si aggiorna esattamente ogni secondo ma ogni due questo perché appunto non è perfettamente allineato in un'altra istanza di questa stessa presentazione potrebbe aggiornarsi effettivamente ogni secondo infatti il reactive timer è settato a mille a mille a mille secondi e viene questo reactive timer viene assegnato alla variabile timer guardate che come viene usata viene usata io ho un verbatim text output di tipo che viene identificato con time e nel server time viene innanzitutto messo dentro un contesto reattivo che è definito da render text e render text richiama cosa timer quindi si allinea quindi aspetta anzi meglio dire così aspetta ad aggiornarsi finché scade il timer passa il secondo e a quel punto può stampare attraverso la funzione di rs time in cui definisco anche il formato stampo l'ora esatta completa di secondo in cui mi trovo quindi la data fino al secondo giocando un po' sul tempo di attesa se questo è l'obiettivo è possibile è possibile avvicinarsi al timer che poi in qualsiasi circostanza può può aggiornarsi al secondo preciso questo che vedete qui di seguito è un altro esempio di uso del timer che viene fatto per fare della simulazione un aggiornamento a intervalli di tempi regolari di una distribuzione quindi in questo caso noi abbiamo la nostra solita il nostro solito istogramma l'unica cosa che vi chiedo di seguire è il richiamo di timer seguito dalla funzione rnorm che in questo caso non dipende da alcun input ma prende n uguale a 100 direttamente quindi fa un scampionamento direttamente nel server e ogni due secondi quindi viene richiamato e viene questo output viene sia visualizzato sotto forma di distribuzione istogramma e sia sotto forma di summary e questo adesso vedrete che è il funzionamento ogni due secondi c'è un aggiornamento continuo è utile per se dovete fare alcune simulazioni che a ogni tick ad esempio o prende o aggiorna i dati magari da una fonte esterna o se è una simulazione to cure voi appunto fate vedere degli come evolve la simulazione potete anche non in tutti i casi avete la necessità di un comportamento di questo genere avete bisogno di un controllo del tempo più fine in quel caso allora vi consigliamo di abbinare al timer anche l'utilizzo anzi di sostituire al timer l'utilizzo dell'action button l'action button fa dipendere l'esecuzione di un codice dal aver schiacciato o meno un bottone quindi in questo caso il bottone action button che è definito nell'interfaccia utente icon e dissimulate cosa fa? fa in modo che noi simuliamo la distribuzione solamente quando lo schiacciamo e come? per vedere come dobbiamo guardare il server e vedete che nel server il il reactive viene abbinato a input simulate quindi il reactive in qualche modo si aggiorna quando viene quando si aggiorna il valore di action button cioè quando viene schiacciato action button quindi ogni volta che io schiaccio il pulsante perché lo definisco qua questa relazione viene generata una distribuzione casuale e questo è il risultato vedete solamente ogni volta che schiaccio io aggiorno la distribuzione è inoltre possibile separare le dipendenze questo rende possibile di separare le dipendenze dai valori usati per calcolare il risultato questa operazione ancora più facile usando event reactive che è proprio nello stesso modo che abbiamo visto come action button che fa partire un'azione solamente in maniera condizionale all'esecuzione di un'altra azione che è lo schiacciamento di questo bottone ma con event reactive possiamo definirlo in maniera ancora più più complessa e andiamo a definire grazie a due argomenti prima in primo luogo il da cosa vogliamo che la nostra funzione dipenda e poi definiamo la nostra computazione ad esempio guardate questo codice questo codice di nuovo è aggiornato solo quando il bottone è cliccato e guardate come lo faccio però nel server io chiamo l'event reactive che è un'espressione reattiva ripeto che subordina il lancio di una funzione a un determinato evento e l'evento è definito nel primo argomento che è input simulate è input simulate è input dollaro simulate è proprio l'action button il secondo argomento è proprio la nostra funzione quindi il resto non cambia e in questo caso io ho guardate che è molto utile perché uno slider che viene definito in questa riga è del solito slider delle slide precedenti però vedete che lo slider non produce alcun effetto perché la funzione che usa il valore di input di input dollaro samples che è lo slider è condizionato e subordinato all'evento input simulate che è l'action button e vedete che questo non succedeva prima perché non avevano alcuno slider il valore e il numero di campioni era generato all'interno del server quindi grazie a questa funzione event reactiv io ho lo stesso comportamento che mi permette action button però in più posso utilizzare anche a pieno tutti i miei input di cui necessito in questo caso lo slider e quindi io posso simulare la mia distribuzione in questo caso vedete che però per scelte di design anche se il valore 46 non cambio però è voluto che la distribuzione cambi perché è una distribuzione generata casualmente quindi quando è voluto che anche se il valore dell'input slider è 46 che però io quando schiaccio il bottone venga invalidato l'output e quindi si deve riaggiornare sì di nuovo con 46 però ricordate che il dist che è l'elemento reattivo che dipende dallo slider contiene in realtà una rielaborazione casuale di una distribuzione casuale quindi una distribuzione casuale basata sullo slider e quindi in questo caso è proprio la natura dell'applicazione che mi suggerisce questo comportamento però grazie a Event Reactive ho potuto disaccoppiare lo slider dall'aggiornamento in maniera molto efficace e allo stesso tempo fare in modo che anche se quando il valore dello slider rimane lo stesso io utente posso forzare il refresh del grafico qual è il grafo reattivo di questa applicazione è il seguente abbiamo lo slider simulate che pardon abbiamo chiedo scusa abbiamo il bottone simulate che abbiamo visto che l'evento da cui dipende Reactive da cui dipende un altro elemento di Reactive dist e condizionalmente al all'evento al verificarsi dell'evento simulate condizionalmente al fatto che io schiaccio simulate io allora solamente allora prenderò questo input da slider ed è per questo motivo che la freccia che va da bins che è lo slider a dist è tratteggiata in questo caso perché è condizionale a quest'altra dipendenza da dist dipendono poi gli output dist plot e summary data e quindi vedete che quando cambia bins non viene più aggiornato dist solo se io schiaccio simulate e quindi ho un grado di raffinatezza in più della nostra applicazione dell'istogramma facciamo ora un ulteriore passetto in avanti andando a introdurre l'observer l'observer anche l'observer è da perdono non anche l'observer è da intendere come una sorta di vicolo cieco dell'inshiney e del grafo reattivo come gli output sebbene noi poi vedremo con il plot output che è una certa interattività con i grafici permessi che quindi gli output non sono dei veri e propri vicoli ciechi non fino in fondo almeno per quanto riguarda i grafici e invece l'observer si lo è ed è usato per osservare un evento al cui verificarsi io posso fare in modo che degli effetti laterali come l'aggiornamento di un database o l'invio dei dati a un API o l'invio dei dati a un file per il debugging successivo per i log eccetera quindi quando voglio che avvengano certe azioni allora io posso usare l'observer l'observer non può essere letto un vicolo cieco abbiamo detto può produrre degli effetti in questa introduzione noi ci focalizzeremo solamente sull'observe event che risponde a reactive input reactive values e reactive expressions i reactive input sono degli input che sono messi in un contesto reattivo e i reactive i valori e le espressioni relativi li abbiamo visti il primo argomento dell'observer event esprime come in reactive event esprime la dipendenza che può essere un click ad esempio un input click o un'espressione più complessa il secondo argomento invece proprio come il reactive event esprime il codice che deve essere eseguito al verificarsi dell'evento che viene indicato nel primo argomento e qui un esempio in cui l'observe event è questo è l'esempio dell'età dell'input in cui si andava a scrivere l'età e l'observe event è dipendente dal valore che si mette nel campo di input age e lancerà un messaggio console con in cui viene descritto viene mangiato il seguente messaggio età inserita age inserted quindi voi in questa slide non vedete alcun effetto se non il ragionarsi di questo output text come nell'applicazione originale però se lo provate nel vostro rstudio vedrete nella console che vi apparirà a video l'age inserted questo testo qui il reactive graph di questa app è fatto in questo modo io age che è questo valore che vedete qui che è legato sia sentence ovvero questo verba team text output sia il messaggio abbiamo introdotto observe event come facendo l'analogia con l'event reactive in effetti sono molto simili ma attenzione l'observe event produce degli effetti che non sono al di fuori dell'app servono ad esempio aggiornare un database mandare dei dati all'esterno eccetera eccetera se avete bisogno di lanciare dei nuovi calcoli che vi servono all'interno della vostra app e che cambiano quindi la visualizzazione è da usare event reactive e non observe event che è un vicolo cieco non possiamo leggere da observe event quindi non possiamo mai assegnare un risultato del observe event per questo motivo l'observe event è l'abbiamo posizionato come un output quindi è una sorta che non può essere letto ogni volta che dovete fare delle ricomputazioni in risposta ad un evento che però hanno a che fare con la logica della vostra app e con la visualizzazione dei risultati allora usate event reactive questo conclude la l'analisi dei principali elementi dell'app shiny per quanto riguarda gli input e gli output connessi con attraverso gli elementi reattivi quest'ultima sezione è dedicata invece ai layout layout vediamo ora come disporre in maniera grafica che è più rispondente alle esigenze dell'utente gli elementi gli oggetti che abbiamo definito come input e come output lo si fa attraverso le pagine le pagine hanno sono dei template di fatto che hanno già in sé tutto l'html le css e il javascript necessari per la corretta visualizzazione il layout che abbiamo già usato e che useremo in maniera più frequente è il fluid page un layout di tipo che è molto flessibile che è composto da righe ogni riga 12 colonne quindi voi potrete potete immaginare la vostra pagina web come una griglia composta da righe e ogni riga massimo 12 colonne quindi in ogni colonna potete posizionare uno o più elementi i componenti che voi andate a inserire andranno a riempire l'intera larghezza della vostra pagina in tempo reale e quindi sono anche adattabili alle varie dimensioni degli schermi abbiamo poi altre pagine tipi di pagine ad esempio il fixed page che ha le stesse identiche caratteristiche del fluid page ma ha una larghezza definita che viene definita nella documentazione riportata in questa slide su cui non mi soffermo tutto il layout della fixed page deve essere fatto con la funzione fixed row che definisce quindi la riga e poi all'interno di fixed row voi usate column e dentro column potete piazzare i vostri vari elementi e infine abbiamo fill page che è un tipo di pagina che invece è pensata ad esempio per alcuni tipi di dispositivi mobili che sono più lunghi e che andrà a occupare tutto lo spazio in in altezza ad esempio attenzione quando usate questo che dovrete usare delle funzioni che sono adatte per il fill layout o almeno siate consci dell'effetto grafico che poi avrete non ci soffermeremo sul nelle slide né nei laboratori su questo tipo di pagina però è bene che voi sappiate nella sua esistenza le funzioni di layout che andremo a vedere sono funzioni che si adattano sono tutte possono essere tutte usate all'interno della fluid page che vi permettono di definire una gerarchia di elementi che andranno che è rispecchiata dalla gerarchia nella gerarchia che viene creata nell'html da shiny al livello più basso della gerarchia vedrete i pannelli i cosetti pannelli oppure i singoli elementi visuali quindi un esempio di struttura è questa è la fluid page con un titolo ad esempio perché ha un pannello globale e poi possiamo ad esempio definire un layout che all'interno ha altri pannelli con i vari oggetti questo è un esempio di struttura ma lo vedremo più nel dettaglio con degli esempi il layout sidebar prevede un pannello laterale e un pannello centrale che come possiamo usarlo il layout ad esempio andando a modificare la nostra app dell'istogramma e in questo modo la logica rimane la stessa quindi il server rimane lo stesso però posizioniamo in maniera diversa i componenti gli oggetti quindi ad esempio utilizziamo il sidebar layout e nel pannello laterale noi mettiamo sia lì lo slider che il bottone con cui noi lanciamo la simulazione mentre nel pannello centrale mettiamo ciò che viene gli output mettiamo il plot il grafico è la sintesi dei risultati della distribuzione e il server come ho detto rimane lo stesso e il risultato è questo io quando schiaccio avrò visualizzerò l'istogramma e quindi ogni volta che poi modifico lo slider e schiaccio input poi ho i dati aggiornati la logica non è cambiata però è molto più fruibile come vedete in questo modo elementi che vedremo più avanti nel corso vi permetteranno anche di fare in modo che questa scritta che era già presente all'inizio quando ho caricato l'app si materializzi solamente quando io ho dei dati quando io schiaccio simulating new distribution anche all'interno del layout flessibile io posso andare a definire le singole righe colonne e questo lo faccio con le funzioni fluid row e column e il primo argomento di column ricordate che vi dice quante celle quante colonne quindi io vado a occupare con i miei elementi quindi andiamo a vederlo con un esempio io in questa pagina definisco una prima riga e una seconda riga nella prima riga ho una colonna che è larga tre celle e poi un'altra colonna che larga nove celle e poi una seconda riga quindi qua nella prima riga un po' ricorda un po' il sidebar layout dove ho un pannello più piccolo più stretto e poi a seguire un pannello più grande però cambia che qui poi ho un'altra riga in cui io posso ridefinire totalmente le dimensioni quindi in questo caso una colonna di quattro che prende quattro spazi una colonna che ne prende sei celle o spazi e un'ultima colonna che ne prende due e quindi mi dà molta più flessibilità nel mettere i miei oggetti l'esercizio l'esercizio che io vi propongo è quello di prendere di nuovo l'app dell'istogramma e modificarla in modo che il grafico è al fondo della pagina centrato e invece la descrizione il summary della distribuzione invece appare accanto allo slider e come per gli esercizi precedenti se volete farlo mettete in pausa la registrazione e poi così vedrete la la soluzione la soluzione che è una delle soluzioni possibili ovviamente ma quella che vi propongo è la seguente l'utilizzo con l'utilizzo di fluid raw io ho come vi ho detto precedentemente posso un po' riprodurre l'estetica del sidebar e le auto quindi del pannello laterale io una colonna larga 4 in cui ho lo slider e l'action button quindi di nuovo l'input sta lì seguita da una colonna larga 8 in cui ho proprio il summary perché lo richiedevo nell'esercizio questa è la prima riga e poi passo alla seconda riga in cui posso mettere il grafico e come lo metto lo metto che prenda tutte e 12 spazi disponibili per la colonna e che in più utilizzo l'argomento del funzione column che align uguale center che me lo metterà al centro e poi definisco appunto il plot output e il risultato il server non cambia il risultato è questo quindi questo è centrato attenzione è centrato rispetto all'intera pagina il grafico è centrato rispetto alla pagina e il il summary stavolta invece di essere sotto e sopra accanto allo slider perché è nella stessa riga dello slider quindi è esattamente accanto utilizzato combinando fluido raw con delle colonne io posso poi ottenere dei risultati ancora più fini ad esempio posso utilizzare i cosiddetti pannelli tab che mi creano dei tab in questo caso ho un tab per i parametri di input e in cui anche vado a mostrare per scelta mia vado a mostrare anche il il summary della della distribuzione la sintesi della distribuzione mentre distribuzione è nel nel tab successivo ovviamente non cambia il tempo di aggiornamento perché se la logica del server non è minimamente toccata e quando io cambio lo slider non succede infatti di nuovo nulla ma io quando cambio qui vedete che è cambiata anche il plot e come l'ho fatto utilizzando il tab set panel che come vedete dal comando fa il setup di un insieme di tab o un tab che chiamo input parameters e che all'interno una riga con dentro una colonna con dentro sia lo slider input sia il bottone che lancia simulazione e poi un'altra colonna con il con i summary con la sintesi e questo termina la prima riga ma termina anche il primo tab e poi un secondo tab per la visualizzazione dell'histogramma visualize distribution in cui io inserisco il plot e questa è quindi posso avere più immaginate che io posso avere dunque la stessa funzione di server che non ho mai toccato e poi posso richiamare diverse Wii a seconda di come lo a seconda di come lo lo utilizzo o lo voglio utilizzare e ci avviciniamo verso la chiusura ho poi il nav list nav bar che mi consentono di avere delle liste per navigare nella mia app in cui nel nav list panel i tab sono mostrati verticalmente in una barra laterale i tab possono anche essere usati dentro una barra di navigazione è una pagina barra di navigazione che è una pagina che contiene una organizzazione all'alto livello dei miei vari tab mostrati in maniera orizzontale e in cui posso poi eventualmente creare anche un menu attraverso il nav bar ovviamente è molto più semplice in materia di interfaccia grafica è molto più semplice vedere direttamente poi il risultato e in questo caso andiamo direttamente al risultato come vedete io ho il solito tab input parameters e poi cosa ho stavolta ho un secondo tab more in cui io posso scegliere se visualizzare la distribuzione oppure vedere i dati quindi concentriamoci sul su questo tab more e come è stato fatto pardon è stato fatto con un navbar menu in cui ho inserito due tab visualize distribution con dentro il grafico e il tab verbatim text output di nuovo la funzione di server non è cambiata quindi io potenzialmente ho già quattro diverse interfacce grafiche anzi è stata cambiata per avere un tab in più quindi in cui io mostro anche i dati generati con il render print di dist e utilizzo guardate bene che riutilizzo sempre lo solito elemento reattivo e stavolta l'utilizzo per un terzo output che è il generate data cos'è il generate data è questo verbo team text output questo qui quindi se guardate questi dati io torno sugli input genero una nuova distribuzione sono cambiati se ricordate io precedentemente avevo usato in maniera impropria un output un text output per stampare a video del testo statico e vi avevo dimostrato portandolo avanti negli esempi fino ad arrivare a un esempio in cui vi ho mostrato un grafo reattivo che mostrava che metteva in evidenza l'uso improprio di quel text output perché creava un output isolato quindi non aveva senso ecco è giunto il momento proprio in chiusura di dirvi come rendere del testo statico nella vostra pagina utilizzando dei tag html che hanno quasi tutti i tag html hanno un dropper in shiny abbiamo è possibile attraverso l'elemento tags seguito da dollaro e poi dal nome dell'elemento html che si vuole utilizzare è possibile specificare poi il contenuto dell'elemento html e eventuali argomenti e quindi inoltre abbiamo anche dei dei dropper ancora più espliciti che hanno direttamente il nome del del tag html quindi ho la funzione h1 che esattamente fa quello che fa il tag h1 in html stampare un titolo di primo livello ho il tag a che stampa un link possiamo anche passare del codice grezzo in html utilizzando la funzione html e questo dobbiamo stare attenti però a usare il codice html e quindi l'ultimo esercizio che vi propongo è di cambiare leggermente l'app dell'istogramma una delle ultime che vi ho presentato nei vari layout aggiungendo delle descrizioni dei titoli in modo di prendere un po' di familiarità con i tag e le funzioni wrapper html questo conclude questa panoramica che abbiamo fatto su le basi per le app shiny in questa slide trovate tutta una serie di risorse supplementari che se volete approfondire determinati argomenti che potete andare a verificare tutto ciò che vi serve per il laboratorio su shiny basics è però definito nelle slide che è nel codice delle slide che avete a disposizione quindi queste sono risorse che dovete considerare come opzionali e che servono per approfondire determinati argomenti con questo vi ringrazio per l'attenzione per aver seguito questa introduzione a shiny e vi do un arrivederci al laboratorio che faremo tra qualche giorno grazie